Ottima vittoria della Mantea che così veleggia in testa alla classifica, un gol di Amendola al dodicesimo del secondo tempo per concretizzare questo vantaggio della Mantea. Un'ottima prestazione soprattutto dei blu cerchiati nella ripresa, ottimo Raimondo il 99 che di domenica in domenica convince sempre di più risultando uno dei migliori andre della partita. Nella ripresa è stato espusso Fabio al 26esimo e di qui la superiorità numerica blu cerchiata si è fatta notare con dei micidiali contropiedi due volte Tucci ha sciupato davanti alla porta. Ambrogio è stato protagonista nel finale veramente di un intervento clamoroso perché pur in dieci l'Olempicacri si era reso pericoloso e sulla linea Ambrogio ha salvato il risultato. Ma al di là di questo episodio è stata netta la supremazia della Mantea nel secondo tempo per una vittoria meritatissima. I tifosi sono entusiasti anche alla luce della vittoria del Belvedere sul Cotronei per 2 a 1 e quindi entusiasta alle stelle nella città tisnenica. È tutto dal città di Mantea a voi studio.